no 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 n'hai capito l'ho scelto dalla mappa ho scelto dalla mappa cazzo il ca... minchia ah le mine sono volute a mettere questi stronzi hai capito se è merda hanno messo le mine aveva messo le mine qua perciò mi ha spaventato già e l'ha distrutto il cazzo mamma quanto è lenta quest'argo i soldatini ci sono veramente assa gli uni di salva aereo occhi aperti i soldati